Ciao ragazzi, prima che cominci il video volevo ricordarvi di attivare la campanellina se siete già iscritti per rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò in futuro E ovviamente se non siete ancora iscritti e il video vi piacerà, ricordatevi di iscrivervi e di lasciare un bel like per supportarmi Attenzione, questo video contiene un alto tasso di linguaggio scurile e di effetti audio e video che potrebbero causare attacchi epilettici o tendenze suicide In ogni caso, mi invito a non bestemmiare e lasciare like, grazie e buona visione Parco Dio Ciao ragazzi sono Naimo, bentornati sul mio canale Come potete vedere siamo tornati oggi finalmente dopo 47 millenni su Rainbow Six Su questo fottuto gioco con il ciuffo ribelle e con la faccia da quello del solito Direi di non perderci in chiacchiere e cominciare subito questo video di merda come tutti gli altri Bene ragazzi mi son rotto il cazzo, ho detto proprio sinceramente Dai Cristo Z fa un cannone Ovviamente ci prendiamo Ash, proprio perché ha il cannone No vabbè allora sei stronzo nell'anima, dillo Ma che micchia pensi di fare, coglione What? 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 Cioè era stordito, l'ho colpito prima, l'ho colpito pure adesso e non è morto E lui mi sciotta Cioè ho capito che l'ho smirato ragazzi, l'ho smirato, sì l'ho visto che l'ho smirato, non sono coglione Non sono coglione Ma minchia, quanta cazzo di vita sto qui Ma che cazzo mi rappresenta sta roba Dovrebbe essere a fuoco, se non è a fuoco bestemmierò mentre edito Che minchia sta sparando sto stronzo? Ma che cazzo spari, coglione? Questo qui ha dei problemi molto seri Oh mi hai rotto il cazzo Crepa Sa che c'è qualcuno qui sopra lo skylight Sì, infatti, ha lanciato il drone Ma io sono fottuto vigil, quindi non mi vede sto stronzo Ah, ah, gay Ma sto stronzo vuole scendere o no? Ma che sta facendo questo qua sopra? Oh, no, 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 no Ha riattivato il drone Ok, eccolo Madonna ragazzi, che smirata assurda Vaffanculo, da che bi di merda It was at this moment that he knew He fucked up No What's up, motherfuckers? E' a terra, coglione Ma l'hanno anche individuato Come stracazza è possibile? Boh, io vabbè ragazzi, non ho parole Cioè, è un tavolo di legno Il colpo ci passa attraverso Minchia, spara dove vedi il segnale, no? What the fuck? What? Yeah What the fuck? Non ci ho capito un cazzo ragazzi Non me l'aspettavo forse lì Mi sono cagato addosso Madonna I mortacci tua What? Perchè? 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 Stronza! Figlia della merda Vaffanculo 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 Io sono un cretino Sono un cretino Perchè sono andato a correre di là? Perchè? Sono handicappato io ragazzi Sono una sfigata Spam E si vola 130 Martin Garrix Animals Si vola Dio Che minchia è successo ragazzi Non lo voglio sapere Pensavo fosse ancora appeso fuori con il rampino Guarda qua Guarda qua questa azione Eh questa azione è una merda Perchè giustamente ci metto tre ore Per passare da una finestra Io ragazzi sono rincoglionito Mamma a dei livelli estremi proprio Ragazzi Come nei miei video ovviamente Non può mancare il product placement Comprate le noccioline Alesto Si chiamano Maca Da Macadamia Sono buone Cioè Seriamente? No 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 Dai volevo accottellarlo Minchia Esplodi male Doppia A random Più nabbi di così Ok C'è ancora Zofia Che gira da qualche parte Zofia de Mignotta Vabbè Vediamo cosa minchia Eh la madonna Di dio Affanculo Stronza Eh allora sei figlia Di putt No 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 Crepa Stronza Mi sa che ho messo il microfono un po' troppo alto Sti cazzi lo tengo così Bel pisellone enorme La batteria è scarica Mannaggia la madonna Madonna di cristo Dio mi sono cagato addosso L'ho smirata 57 volte What? Sensore cardiaco Dove? No ragazzi Sta roba mi ha messo un'ansia assurda Dov'è che l'ho visto? Pacchetto alfa Attenzione Perfetto Bella merda Direi di continuare a giocare Ah ma qui è aperto infatti Ragazzi Non me ne ero mica accorto Pezza di merda Volevi eh Stronza Oh merda Qui è aperto Mortacci tua Volevi pezza di merda Stronza Stronza bastarda Cioè hai visto come minchia mi ha ammazzato Ma l'hai visto Ma l'hai visto come cazzo mi ha ammazzato Dov'è oh No No Non mi lanciare Non mi lanciare la granata No Stronzo Hai capito che sono qua eh Pezzo di merda What the fuck C'è una botola qui Che non ho mai visto Vi giuro mai Non ho mai visto quella botola in vitola In vitola Quella botola in vitola Io ho come l'impressione Che ci sia qualche stronzo Esattamente lì Infatti avevo ragione ragazzi Madonna come l'ho ammazzato Quello lì Provo 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 pena per lui Veramente What What the fuck What the fuck Vuoi vedere che sto stronzo Mi sta guardando con il drone Adesso mi fa Guardalo eh Guarda 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 Cioè io te l'ho detto Io te l'ho detto Adesso te l'ho detto Proprio in questo istante E sono ancora più stronzo io Che ci vado Nonostante io abbia l'ipotesi Che stia guardando me Cioè sono doppiamente stronzo Ah ma sei qui Ma vaffanculo No Dai ragazzi che pirla Oggi è il Che cazzo di giorno è oggi Il 30 ottobre E questo video probabilmente Lo vedrete A Pasqua Perché questi ovviamente Sono i miei tempi Di pubblicazione Di un video Vabbè ragazzi Sto video è un È un Miscuglio di merda Quindi dai Spero che qualcosa di divertente Ne venga fuori Come Cioè almeno Antisgamo Guarda Va bene Ciao ragazzi Sono Imo Quello che avete appena visto È una sorta di speciale Che ho voluto realizzare Principalmente per il fatto Che mi mancano Diciamo le clip Perché è da molto Che non registro È da molto Che non ho tempo Per farlo In primis perché Ho avuto molti Molti problemi Con il computer Ho dovuto cambiare La ram La scheda video E altri casini vari Inoltre quest'anno Sono in quinta liceo Ho gli esami E quindi lo studio Mi prende davvero Un sacco di tempo Mi scuso davvero tanto Per la mancanza di video In questi mesi I motivi Ve li ho appena spiegati Poi ce ne sono altri Che non sto qui a dirvi Per motivi di privacy Vi dico anche Che questa ovviamente Come avete letto dal titolo È la prima parte Ce ne sarà una seconda Sottolineo il fatto Che ho diviso questo video In due parti Semplicemente per questioni Di comodità Perché ovviamente Un video di 18-19 minuti Non se lo sarebbe vincolato nessuno Quindi ovviamente Se avete visto questo video Mi raccomando State sintonizzati E guardatevi il prossimo Che dovrebbe uscire Veramente a breve Quindi ragazzi Che dire Spero che questo video Vi sia piaciuto Spero anche ovviamente Che vi piaccia il prossimo Mi raccomando Se così è stato lasciato un like Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Qui da Naimo è tutto Bella Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima